Siamo in piazza Roma, Andrea ha dovuto scendere e c'è veramente di tutto Pieno peraltro per metà il cassonetto però la maggior parte dei sacchetti sono fuori Qui c'è un po' di tutto, cartoni, fiori Viene messo da parte del cartone che poi passerà il collega che farà la differenziata e porterà via il cartone Per il resto tutti i sacchetti vengono messi nel cassonetto che lo avrà sollevato e scaricato nel camion Qui ci sono ancora altri sacchetti, guardate Abbiamo finito